24-13 Frigo riceve, poi l'attacco affidato a McMeon Murata salva tutto Pizza Segola poi la seconda linea Gray che viene Murata e punto alla fine, non si sa come di McMeon 25-13, si chiude qui Soverato vince 3-1, torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive Con il tecnico della golem Olbia Pasqualino Giangrossi commentiamo questa sconfitta della sua squadra subita per 3-1 qui a Soverato una partita che ha visto primeggiare il Soverato dal punto di vista tecnico ha fatto valere il suo maggiore tasso tecnico un Olbia che forse al di là dei meriti di Soverato che sono sicuramente tanti, ha sbagliato anche un po' troppo in attacco e in ricezione Oggi abbiamo giocato una brutta partita con una squadra che gioca bene quindi sicuramente dovevamo mettere in campo un'altra prestazione per provare a giocarcela purtroppo al solito, ormai dall'inizio dell'anno paghiamo una situazione infortuni pesante che ci penalizza durante la settimana quindi diventa difficile lavorare e oggi all'ennesima volta mancavamo del capitano e avevamo Giulia Melli con una forte influenza quindi abbiamo provato a utilizzarla all'inizio ma non era proprio nella sua giornata migliore in più il palleggiatore è ancora reduce da un infortunio e più nell'ultimo allenamento ha preso un brutto colpo che l'ha bloccata quindi diciamo che oggi non eravamo proprio fisicamente pronti a affrontare una partita che invece meritava un altro tipo di approccio dall'altra parte abbiamo trovato una squadra che ha fatto valere tanta fisicità in più di noi e una qualità in campo sicuramente più efficace quindi abbiamo provato a mischiare un po' le carte nel terzo set ci è riuscito abbastanza bene siamo riusciti a forzare il servizio e siamo venuti via con un buon terzo set poi nel quarto ci siamo persi di nuovo purtroppo mi sarebbe piaciuto giocarmela in maniera in maniera differente sicuramente opporre una resistenza diversa venivamo da un buon momento questa non è una stagione che a noi ci aiuta molto diciamo dal punto di vista della fortuna quindi va bene così non era questa la partita da vincere noi abbiamo fatto un buon percorso nonostante i tanti problemi siamo in una situazione di classifica tranquilla che erano gli obiettivi societari quindi guardiamo gli altri campi e aspettiamo il verdetto per capire se ancora una giornata più vicini all'obiettivo della salvezza Ecco appunto questo volevo chiedere il rush finale di stagione con un'olbia in una posizione abbastanza tranquilla quindi può giocare queste ultime gare che mancano da qui ad un mese quando finirà la regular season con maggiore serenità, maggiore applicazione sapendo di avere praticamente l'obiettivo stagionale a portata di mano Sì, noi abbiamo faticato tantissimo nelle prime 22-23 gare perché non abbiamo mai avuto a disposizione praticamente il nostro palleggiatore dalla partita di Perugia ad andata poi abbiamo inanallato una serie di sconfitte e nonostante questo siamo riusciti a rimanere in linea di galleggiamento con due squadre sotto al rientro del palleggiatore abbiamo vinto quattro gare che ci ha messo in una situazione di classifica abbastanza serena all'inizio di questa giornata avevamo più 11 dalla zona calda con comunque quattro squadre sotto di noi quindi la situazione è abbastanza tranquilla questo non significa che si possano affrontare partite senza dare il massimo perché questo è un campionato che ha dimostrato che i valori sono molto livellati dove tutti possono vincere o perdere con tutti ci sono chiaramente delle squadre più attrezzate che stanno facendo un campionato di altissimo livello ma che comunque hanno lasciato punti in giro anche con squadre meno forti quindi bisogna sempre stare attenti la matematica salvezza sarà difficilissima da raggiungere perché la classifica è talmente stretta e i punti in palio sono ancora tanti quindi noi dobbiamo giocare e provare a fare punti con tutte le squadre che incontriamo abbiamo solo ancora due partite in casa quindi per il resto tutte trasferte tutte trasferte complicate perché incontriamo le prime della classe quindi dobbiamo essere bravi a mettere prestazioni in campo prestazioni migliori di questa Coach Barbieri torna alla vittoria il volo esoverato nel turno infrasettimanale stoppa quelle due sconfitte consecutive tre punti pesanti in casa con Olbia un avversario sicuramente non irresistibile ma era importante riprendere la marcia dopo due sconfitte consecutive sì sì per noi era importante perché c'era anche un po' l'aspetto morale devo dire che per due set siamo stati veramente impeccabili veramente sempre avanti abbiamo giocato veramente bene muro difesa ottimo il terzo set loro hanno cambiato la formazione hanno messo Iannone da opposta lì ci abbiamo messo un po' troppo tempo a prendere le misure soprattutto abbiamo pagato un po' la sua battuta un servizio, un giro di battute alla Cecconella non siamo riusciti a recuperare poi devo dire che il terzo set abbiamo avuto una bella reazione anche psicologica ne avevamo parlato con le ragazze che ogni tanto nelle difficoltà dovevamo crescere e devo dire che oggi abbiamo dato una dimostrazione importante a livello psicologico un quarto set è giocato molto molto bene mancano sei partite alla fine della regular season saranno sei partite importantissime perché il Soverato deve cercare di migliorare la sua posizione di classifica all'interno della griglia playoff un campionato avvincente si continua a dimostrare ci sono risultati in parte sorprendenti ogni settimana quindi massima applicazione per affrontare al meglio questo rush finale sì non è facile perché abbiamo visto che squadre come Orvieto come Ravenna come Tab Italia sono tutte squadre che hanno tutte le credenziali per entrare nei playoff perciò non sarà semplice adesso non sono ancora finite le partite ma Ravenna sta vincendo con Mondovì Orvieto sta vincendo Trento perciò si sa che sarà dura sarà durissima riuscire a entrare nelle otto ma noi come abbiamo più volte detto ci vogliamo essere arrivano tre punti in casa dove il Soverato quest'anno ha faticato di più è una coincidenza si è giocata a porte chiuse e la squadra ha vinto 3 a 1 si scherza logicamente però è importante perché il Soverato in casa quest'anno ha fatto molta fatica sì abbiamo già detto altre volte abbiamo preso più punti fuori che in casa questo sarà di buono speech se arriveremo in playoff penso che il nostro pubblico c'è sempre vicino è caldo, è bello giocare col pubblico oggi sinceramente ci è mancato molto ecco è mancato il pubblico perciò speriamo che si stemino tutto e che ritorni il nostro pubblico grazie a tutti